Era il 28 agosto del 1979. Calogero Di Bona, vicecomandante dello storico carcere Ucciardone di Palermo, esce dall'istituto alle 14.05. Ad attenderlo nella sua casa di Sferracavallo la famiglia, una moglie e tre figli che però non lo vedranno mai rientrare. Una scomparsa avvolta nel mistero per decenni fino a quando alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia risulteranno cruciali per le indagini. Di Bona, che stava per denunciare la grave situazione di illegalità della nona sezione dell'infermeria del carcere allora denominato il Grande Hotel, venne prima rapito e poi strangolato lo stesso giorno della scomparsa. Il suo cadavere venne poi bruciato nella zona Cardillo, a volerlo morto, gli uomini di Cosa Nostra. Adesso per quella vittima di mafia il carcere dove lavorava il maresciallo porterà il suo nome. Speriamo di intitolare l'istituto ma anche una nuova era dell'Ucciardone che purtroppo ha una storia anche triste, anche buia in alcuni anni e speriamo di avere riscattato in questi anni. Un lavoro non facile quello delle guardie carcerarie costrette non solo a condividere la pena con i detenuti ma anche a svolgere il doppio ruolo di tutori dell'ordine la sicurezza e anche quello di collaboratori per il reinserimento sociale, un comparto che ad oggi soffre per le gravi mancanze. Ci sono delle progettualità che sono state già definite ma ci deve essere anche un impegno da parte delle forze politiche. Il nostro ministro della giustizia in tal senso ha fatto tanto perché si è impegnato per nuove assunzioni, alcune sono arrivate e altre ancora ne verranno, però bisogna agire a tutto campo affinché le carceri siano più sicure e garantiscono migliori condizioni trattamentali e di recupero per i nostri ristretti.